Si fa presto a dire che l'amore è sacrificio. Ecco, stamattina Papa Ratzinger ci ha dato, con l'esempio, l'insegnamento più forte sull'amore alla Chiesa. Ha detto, non ho più le forze per fare un servizio che richiede tantissimo. Amo la Chiesa, mi faccio da parte, seguito con la preghiera a fare quello che non riesco più a fare con le mie risorse personali. Io per questo grande Papa vorrei la preghiera di tutta la nostra Chiesa che lo assista in questi momenti certamente duri e difficili, che lo ricompensi facendogli vedere i frutti del suo ricco pontificato, che ci riesca a tutti imparare la lezione dell'umiltà che è la via della salvezza. Preghiamo per il Papa! Grazie!